Vediamo, vediamo in questo video i migliori dati psicologici sulle donne che ogni uomo dovrebbe conoscere. Per prima cosa però, se ti va, metti un like e condividi questo video con i tuoi amici. Iscriviti gratuitamente al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Se vuoi fare una donazione al canale, basta che vai sotto il video, clicca sull'apposito pulsante e fai una donazione al canale. Anche su un caffè è ben accetto. Inoltre, inoltre, ti ricordo che se vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastina abbonati, che si trova vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare e velcro computer e seleziona l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema, i migliori dati psicologici, sulle donne che ogni uomo dovrebbe conoscere. E se noti questo in una donna, significa che ci sta. Quali sono le cose che, se tu noti in una donna, significa che è predisposta proprio sessualmente nei tuoi confronti. Ovviamente dovrai poi dargli la possibilità, ma sai che il semaforo è verde, sai che piano piano, diciamo, se ottieni anche il consenso della parte logica, è fatta. Perché ovviamente il consenso deve essere poi alla fine della parte logica, ovviamente. Ma se tu sai che ci sono già i presupposti emozionali e istintivi e fisici, questo è molto importante. Intanto tu devi somministrare dei comportamenti, mettere in atto dei comportamenti e vedere che cosa succede. Ad esempio, quello che attrae molto la donna è vedere un uomo sicuro di sé. Perché la donna non è attratta tanto dalla bellezza estetica dell'uomo, paradossalmente neanche tanto dall'età, perché anche un uomo maturo, over 40, over 50, over 60, può piacere a una donna anche più giovane se si dimostra sicuro di sé, se si dimostra centrato. Quindi con un buon body language, guardala negli occhi quando parli, mantieni spazio, cioè la gestualità deve essere ampia perché ti fa occupare più spazio, ti fa vedere come è più potente, ma armonica, non schizzata. Gesti lenti e ovviamente farti vedere come un uomo forte, rigido e un uomo che sa quello che vuole. L'uomo che non deve chiedere mai. Già questo atteggiamento qua, anche la voce, la paralinguistica, è importante variare i toni di voce, capire ogni tanto. Sicuramente le voci stridule non vanno bene, ma talvolta la voce deve essere un po' più romantica, talvolta un po' più dura, perché questo va a stuzzicare a livello psicologico la donna, perché la bambina veniva sgridata dal papà e allora ogni tanto devi utilizzare un po' di voce forte, perché se ti identifica come modello paterno, a livello psicologico tende a coinvolgersi, perché diciamoci la verità, la donna è il primo, come dire, modello di cui si è innamorata è il padre, anche se poi dopo successivamente ha avuto dei conflitti, ma quello è il primo modello. Per cui da questo punto di vista è veramente molto importante che tu sappia mettere in atto questi comportamenti attraverso anche la paralinguistica, perché vai a agganciare proprio la psicologia della donna. E poi mettendo in atto questi atteggiamenti, questi comportamenti, noterai dei segnali. Un segnale molto facile. Poi per stuzzicare, per generare attrazione, devi utilizzare ovviamente la kinescalation, il contatto fisico, ad esempio parlando magari puoi mettere la mano sulla spalla, con la scusa diciamo che, oh che belli orecchini che hai, vai a toccarle l'orecchio, che è un punto molto sensibile. Ovviamente ci deve essere una scusa, gli orecchini l'orecchio, oh che bel bracciale che hai, oppure ti suggerisco sempre la lettura della mano, oh io sai sono un esperto di lettura della mano, le prendi la mano, intanto le tieni la mano, crei contatto e poi se vai a stuzzicare anche passando leggermente il tuo polpastrello del dito sul suo palmo della mano, con la storia delle linee diciamo, ti vai a leggere qualche libercolo, questo genera un'attrazione molto importante, molto profonda. Soprattutto se vai anche a stuzzicare questa parte del polso. Ovviamente sono tutti luoghi socialmente accettabili, lei non si sentirà invasa per nulla, la scusa è quella della lettura della mano e tu ottieni la possibilità di dare, di stuzzicare molto. Ovviamente poi dipende un po' dall'ambiente in cui ti trovi, se magari sei in ufficio, ti piace la collega, arrivi col faldone diciamo del coso, ti giri e magari muovendo il gomito per farle vedere la pratica, con la spalla, col gomito, col braccio, le sfiori il capezzolo per dire. Tra l'altro se senti o percepisci un inturgidimento, diciamo, vedi visivamente, del capezzolo ovviamente significa che la donna prova un'eccitazione molto forte, quindi è un segnale molto forte che ci sta, tra virgolette, che è eccitata, che è la tua attrazione ha fatto effetto. Così come se guardandola negli occhi, dopo esserti presentato come maschio, che tra l'altro devi farla parlare anche, perché farla parlare è fondamentale, farle raccontare, magari se appunto sei una collega, se sei una che conosci, della sua infanzia, stai facendo domande vaghe, generiche, tanto lei proietterà poi queste cose su quelli che sono le sue emozioni che ha vissuto in modo compresso e questo genererà, ti posso garantire, un'eccitazione, un'attrazione molto forte. Ecco quindi che sono tutte strategie, tutte situazioni che ti consentono di amplificare l'emotività e di acquisire ancora più potenziale di seduzione nei confronti di questa donna, acquisire ancora più potere, tra virgolette. Quindi i segnali che poi ti darà di rimando, ripeto, sono il fatto che lei magari cerca di toccare te e stabilisce un contatto fisico. Questo è un altro segnale molto importante. Se la guardi negli occhi, non farti sfuggire l'eventuale midriasi, cioè la dilatazione della pupilla, perché la dilatazione della pupilla è un altro segnale che manifesta un coinvolgimento. Anche se poi, dopo che hai somministrato un po' di stimoli, lei vede che cerca, lei, di, diciamo, attaccare il bottone, tra virgolette, per una conversazione, oppure ti chiede cosa fai, ti chiede soprattutto, cerca di capire se tu sei single, non sei single, la tua situazione è sentimentale, cerca di farti domande. Beh, è un altro segnale che ci sta, tra virgolette, che se tu dici qualcosa. Ma poi ce ne sono anche tanti non verbali. Dicevo, la midriasi è uno di questi, ma il morticchiarsi le labbra, l'abbo inferiore all'abbo superiore, sono due segnali, anche questi molto forti. Il cercare, come dicevo, l'avvicinanza nei tuoi confronti, il ridere, alle battute, anche idiote, che fai. E anzi, più la battuta è idiota, più lei ride, tieni presente sempre il detto, donna che ride, mutanda che cala, sono tutte, sono tutti segnali che ci sta. E devi capire un po' la psicologia femminile, se vuoi sedurre, se vuoi conquistare, se vuoi ovviamente far innamorare anche in modo profondo una donna. Ecco, quindi la capacità di interagire in questo modo ti renderà veramente, veramente attraente, farà di te un latin lover, come si diceva, un playboy, un uomo che sa sedurre, un uomo che sa parlare e manifesta anche la tua capacità di ascoltarla, perché per una donna essere compresa, sentirsi compresa è anche molto importante da questo punto di vista. Ecco, quindi presta attenzione a tutti questi segnali, sono dati psicologici molto importanti che ti fanno capire che una donna può essere veramente coinvolta a un livello molto profondo nei tuoi confronti, non a livello superficiale. E poi ovviamente presentati come un uomo anche stabile, emotivamente stabile, questo è un altro punto fondamentale. Se ti fai vedere che sei schizzato, che schizzi da una parte all'altra, è ovvio che questo non depone a tuo favore. La stabilità emotiva, la centratura, l'equilibrio per una donna anche istintivamente è un fatto molto importante, perché consente proprio di sentirsi diciamo protetta tra virgolette da un uomo di valore, da un uomo di successo. Metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale gratuitamente attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente se vuoi fare una donazione al canale e ben accetta basta che vai sotto e selezioni sotto il video sul tastino anche un caffè è sempre ben accetto. In più se vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti vai nella home page tastina abbonati vicino al tastino iscriviti e selezioni e l'abbonamento che preferisci. Per questo video è tutto, seguimi anche sugli altri miei canali YouTube su Instagram Massimo Terramasco Ufficiale e su TikTok. Ti do appuntamento al prossimo video.